Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Marco di Flavorista che è la community che ti accompagna in ogni fase della tua vita professionale con servizi di orientamento, formazione e networking. Ci rivolgiamo infatti a freelance o aspiranti tali per permettergli di avviare la propria attività o il proprio brand o insomma perfezionare quella che è la loro attività già in essere. Oggi parliamo proprio di un argomento caro ai freelance, cioè come stuzzicare l'interesse delle aziende per fare in modo che siano costrette, obbligate a collaborare con un freelance. Andremo quindi a vedere nel video di oggi come presentarsi efficacemente ad un'azienda per proporre la nostra figura, il nostro profilo da freelance e proporre quindi una collaborazione all'azienda in questione. Non perderti il proseguo del video perché parleremo proprio di 6 elementi chiave da tenere in considerazione quando scriviamo una mail o un messaggio per presentarci a un'azienda e proporre la nostra collaborazione. Partiamo però con la premessa fondamentale, cioè che la preparazione è la chiave di tutto. Dobbiamo conoscere e quindi studiare nel dettaglio questa azienda, come è fatta, chi ci lavora, i suoi valori, le sue caratteristiche, come comunica. Dobbiamo studiare per filo e per segno, ci dobbiamo preparare molto molto bene. Come in tantissime cose, quanto più preventivamente ci prepariamo, mettiamo sul tavolo tutte le informazioni che possiamo raccogliere, quanto più efficacemente riusciremo a raccogliere e a raggiungere il nostro risultato. Quindi in questo caso se noi scriviamo una proposta di collaborazione ovviamente ci interessa che questa proposta venga vista, che venga apprezzata, che stimoli la curiosità di questa azienda. Quindi ci dobbiamo preparare molto 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 bene. Vediamo ora questi sei punti, sei elementi da includere o domande a cui rispondere o da tenere in considerazione quando scriviamo una proposta di collaborazione per un'azienda. Il punto numero uno è chi sei e perché fai quello che fai. Cioè è importante raccontare in questa presentazione chi siamo noi, qual è il nostro profilo e quali sono in qualche modo i nostri valori, le cose in cui crediamo, che tipologia di persona siamo e perché siamo mossi dal fare quello che facciamo. Se sono un content creator racconterò il perché mi piace creare un contenuto video, perché mi piace raccontare qualcosa, da dove deriva questa mia passione, eccetera, eccetera, eccetera. Punto numero due è perché vuoi collaborare proprio con questa azienda. Qui dobbiamo in qualche modo spiegare all'azienda che cosa accomuna noi a questa azienda e perché siamo la persona giusta per poter collaborare con questa azienda. Molto importante far passare il messaggio che questa proposta sia molto personalizzata, che non sia il millesimo messaggio che inviamo a un'azienda con uno script che è sempre lo stesso. Quindi è proprio qui che dobbiamo far capire in qualche modo perché noi, dopo la nostra presentazione e questa azienda, ci incastriamo alla perfezione. Che cosa ci accomuna, quali sono i valori in comune, quali sono magari le esigenze in comune. Io sono un content creator, tu hai bisogno di contenuti, allora questo è chiaramente un match molto pratico. Punto numero tre è come vuoi collaborare con l'azienda e che cosa offri. Diciamo che questa nostra lettera di presentazione, o comunque lettera, mail, messaggio LinkedIn, insomma quei modi che abbiamo per alzare la mano e dire Ehi noi siamo qui, voglio collaborare con te, cara azienda, chiaramente possono includere già una proposta pratica, cioè un ti propongo per figlio per segno questa cosa qui perché secondo me a te, cara azienda, manca. Oppure può essere diciamo uno step che si ferma a un livello prima diciamo, in cui noi diciamo siamo fatti così, voi azienda siete fatti così, secondo me c'è un gran bellissimo match a livello valoriale di intenti. Quindi mettiamoci un attimo a tavolino per capire insieme cosa possiamo fare. Io voglio conoscervi, penso che abbiamo un buon fit. Però nel momento in cui abbiamo già una proposta concreta allora andremo a spiegare questa proposta concreta. Magari abbiamo visto che all'azienda manca qualcosa da un determinato punto di vista di comunicazione o di altro e allora siamo già pronti per diciamo proporre concretamente qualcosa. Chiaramente quanto più siamo proattivi in una proposta ma anche ripeto nello step precedente nel mostrare questo match quanto più l'azienda sarà interessata a conoscerci perché starà vedendo proprio una mail che è super personalizzata, super calata sulla sua realtà e quindi ne sarà assolutamente insomma contenta ecco sicuramente. Il quarto punto da tenere in considerazione e qua passiamo ad un aspetto più pratico è l'oggetto della mail. Deve essere un oggetto molto chiaro, molto significativo, molto catchy, molto illuminante che faccia fermare l'attenzione di chi leggerà quella mail su quella mail. Parliamo appunto di mail, può essere secondo me anche un messaggio LinkedIn, un mondo in cui LinkedIn nel mondo del lavoro è così utilizzato. Ecco mi sento di dire che potrebbe essere anche un messaggio LinkedIn dove abbiamo tutti gli elementi di una mail. Possiamo anche allegare file e adesso vedremo proprio a un punto successivo questa tematica. Perché infatti il quinto punto è proprio un portfolio, una presentazione PDF da allegare a questa proposta. Chiaramente nel momento in cui abbiamo un testo scritto ma supportato da una presentazione che faccia vedere chi siamo, che lavori abbiamo fatto, qual è la nostra filosofia, i nostri valori, questo aggiungerà un enorme valore a questa presentazione, a questa proposta di collaborazione a questa azienda. Quindi teniamo bene in considerazione di allegare sempre un documento, un qualcosa, dei link, qualcosa di concreto da far vedere a questa azienda. Le parole sì, ma servono anche i fatti. Sesto punto, mi sento di dire forse il più importante, adesso ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto all'inizio, è il tono di voce. Cioè dobbiamo capire chi abbiamo davanti, dobbiamo capire questa azienda come parla, come comunica e ci dobbiamo assolutamente allineare a quel tono di voce. Con questo cosa intendo, anche ricollegandomi a quello che dicevo prima, di studiare per filo e per segno l'azienda. Quanto più l'azienda vedrà rispecchiata se stessa nella nostra mail, quindi vedrà magari dei termini che loro utilizzano nella loro comunicazione, però detti da noi, modalità di dire le cose che noi abbiamo letto magari sul sito e che utilizziamo in questa mail. Cioè quanto più si vedrà rispecchiata in questa mail, quanto più ne sarà tratta. Perché chiaramente è qualcosa che per questa azienda è familiare, come lei è, come lei comunica. E se noi riusciamo empaticamente ad entrare nel suo schema, nel suo schema comunicativo, nel suo schema ad essere, ecco lì avremo fatto assolutamente centro. Quindi teniamo bene in considerazione che quest'ultimo punto, il tono di voce, capire come parlare a questa azienda, è assolutamente fondamentale. Settimo punto, anche se ho detto che erano sei, però l'ultimissimo punto, che chiaramente è anche un punto un po' quasi scontato, è una volta che abbiamo scritto una proposta di collaborazione, rivediamola, rivediamola, rivediamola. Il mio consiglio, che io forse non seguo così tanto, però che mi do anche a me stesso, è quello magari di scrivere durante un giorno questa proposta di collaborazione, ma non inviarla subito, inviarla magari uno dei giorni successivi, in modo tale che abbiamo tempo per far sedimentare un attimo quello che abbiamo scritto, rileggerlo magari il giorno dopo e capire se in realtà la prospettiva che abbiamo preso non è così indicata, ma appunto possiamo eventualmente aggiustarla. Bene, quindi abbiamo elencato un sacco di punti fondamentali per scrivere una proposta di collaborazione o di conoscenza, diciamo, molto efficace a un'azienda. Abbiamo visto che dobbiamo assolutamente rendere ben chiaro chi siamo noi, perché ci interessa questa azienda, che cosa proponiamo, perché noi e l'azienda mecciamo, e poi alcuni aspetti più pratici come stare attenti all'oggetto della mail, alle parole che utilizziamo, al nostro tono di voce, insomma tutti quegli elementi, insomma, di infiocchettamento della nostra proposta, che sicuramente la renderanno molto molto appetitosa. Quindi sappiamo che dobbiamo investire del tempo per preparare questa proposta, ma che è un tempo assolutamente investito e non speso, e non buttato lì da qualche parte. Quindi, facciamolo! Un ultimo punto che mi sento di aggiungere, secondo me molto importante, è quello di riuscire ad entrare in contatto con una persona che lavora in questa azienda. Per avere un contatto diretto, riuscire magari anche a empatizzare con questa persona e farsi anche dare una mano eventualmente nell'accedere a una collaborazione con l'azienda, ma anche perché no, riuscire a conoscere ancora di più l'azienda attraverso le parole di chi ci lavora dentro. Quindi, diciamo, come consiglio laterale, ma non troppo, mi sento di dare anche questo. Entriamo in contatto con qualcuno che lavori dentro questa azienda. Per raccontarvi di come io abbia iniziato a collaborare con Flowerista, diciamo che dopo aver conosciuto Sara ad un evento, siamo rimasti in contatto e in un qualche modo penso di averle raccontato molto bene la mia figura, quello che facevo, quello che mi sarebbe piaciuto fare, le competenze che mi sarebbe piaciuto affinare e in un qualche modo questo ha matchato con la necessità di creare contenuti da parte di Flowerista. Quindi in qualche modo c'è stato un match sia pratico sia anche valoriale, nel senso che abbiamo visto che effettivamente a livello di comunicazione, di trasparenza che ci piace avere nella comunicazione, in una modalità empatica che ci contraddistingue entrambi, abbiamo effettivamente un match. Quindi chiaramente io nel tempo ho diciamo inviato dei messaggi, delle mail, chiesto di sentirci, Sara viceversa. Quindi ci siamo tenuti in contatto, ci siamo diciamo coccolati a vicenda per giungere poi qualche mese dopo a effettivamente collaborare insieme. Quindi è tutta una questione di cura, attenzione e insomma impegno in un qualche modo. Impegno, sì impegno. Bene abbiamo terminato questo argomento, io vi ricordo che la community di Flowerista è una community con un sacco di persone che avviano la propria attività, il proprio brand, freelance, coach, un sacco di gente che fa cose interessanti da cui prendere spunto, con cui entrare in contatto, con cui scambiare una chiacchiera. Entrare è assolutamente gratis, questo dà accesso a un sacco di opportunità appunto di conoscere persone ma anche di accedere a della formazione gratuita, a un posto in cui avvengono webinar su tanti argomenti in maniera molto costante e frequente. Ci sono eventi che Flowerista fa, il prossimo sarà il Flowerista Festival a Milano. Ci sono tante cose che avvengono dentro questa community. Quindi se ti va, entra, è gratuito e ci vediamo lì. Bene, grazie per aver guardato. Noi ci vediamo nella community di Flowerista e ci vediamo anche al prossimo video. Ciao! Ciao!